Galleria Borghese e Fondazione Sacchetti sono legate dal doppio filo della storia e dell'arte. Nel 2019 la collaborazione ha portato alla mostra su Luigi Valadier, orafo, bronzista, ebanista e scultore. La contemporaneità non è l'oggetto che viene esposto, ma il pensiero che c'è nel studiare o nell'esporre quell'oggetto. Questo credo che sia il grande messaggio che viene dall'attività complessiva della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti. Valadier fu protagonista nel Settecento di uno stile decorativo nuovo che ebbe tra le massime espressioni l'estensivo restauro neoclassico proprio di Galleria Borghese. Un'impresa così apprezzata da portarlo a lavorare nelle maggiori corti europee. Luigi Valadier fu un artista capace di fare l'infinitamente piccolo, tipo penne e calamai, all'infinitamente grande, con la stessa eccezionale dedizione, con la stessa eccezionale bravura. è uno degli artisti che significano in tutto il mondo Roma.